Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans 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 sulla schiena che sembrano i spiritelli del fuoco del ghiaccio che vengono dal Crash Royale interessante, nuovo eroe madonna, si tutti si aspettavano infatti un eroe femmina visto che abbiamo avuto due maschi, l'ultimo ero maschi quindi era ovvio che venisse femmina un attacco molto simile a quello che potrebbe essere l'attacco del drago elettrico che prende linea della difesa però mi sembra che sia ancora più il raggio sia più elevato su questo eroe ecco qua questa è la miniatura proprio ragazzi con tutti gli aggiornamenti molto molto bello complimenti ai sviluppatori che hanno creato questo stile nuovo blu che mancava nel gioco perché tutti lo volevano complimenti bellissimo, ora passiamo quindi a vedere le note eccoci qua tornati sul Crash of Lens allora, le note dell'aggiornamento quindi il municipio di Vigilatrice questo aggiornamento importante del Crash of Lens per quest'anno ne deve alzare appena aspettare, non soltanto c'è una unità dal municipio 13 con un sistema di difesa unico per proteggere il villaggio che è quella giga tese del giga inferno che abbiamo visto prima questo aggiornamento introduce anche il primo nuovo eroe dal municipio 11 che nel 12 non ha avuto niente e nel 13 finalmente questa qua, la campionessa reale si chiama è pronta a farsi valere, è spietato il suo scudo a ricerca 6 mila di istruzione a schermo scudo a ricerca, che sarebbe quello che abbiamo visto, distruggere un sacco di difese in fila nuovo sistema difensivo in etilo scaglia pietre, spara massi che si avviene di tanti pezzi all'impatto infine per chi possiede il municipio 12 inferiore rappresentava una nuova turpa alloiette quindi io già posso sbloccarla e me lo notare non finisco in cui di seguito dovrai tutte le novità del aggiornamento e molte delle quali è incertata sul municipio 13 che renderà l'esperienza ancora più emozionante interessante, nuovi livelli, ecco qua i nuovi livelli, perfetto nuovi livelli di difese difensiva artigliere aquile a livello 4, questo è un po' devastante torno infernale a livello 7, aia torno dell'ostagone a livello 12, va bene archix a livello 7, questa fa male difesa aerea a livello 11, questa fa molto male tesla occulta a livello 11 fa male cannone, non ce ne frega un cazzo nessuno mura a livello 14, madonna e poi come avevamo fatto per le prime mura dopo il livello 11, se non erro si, o il 12 questo miglioramento vale solo per i primi 100 pezzi quindi solo 100 pezzi potete portare al 14 per adesso poi probabilmente aumenteranno il numero ora non so bene perché facciano questo tipo di limitazioni comunque un sacco di livelli nuovi ragazzi aumentano di tantissimo la potenza del villaggio cioè l'artigliere aquila già era troppo al 2 figuratevi ora al 4 nuovi livelli delle trappole mina aerea a ricerca 4 bomba gigante a livello 6 bomba aerea a livello 7 bomba a livello 9 hanno tutte le si praticamente tutte le trappole le hanno tirate su madonna complimenti nuovi livelli di edifici l'officina per costruire la macchina in assedio nuova caserma 14 per i mini ieti deposito di resir nero a livello 8 deposito di oreo a livello 14 resir casero del clan questo è devastante a livello 9 laboratorio a livello 11 ovviamente per nuovi miglioramenti nuovi livelli di eroi livello barbaro oh cazzo nuovi livelli di eroi madonna questi sono devastanti barbaro a livello 70 livello 14 per l'abilità pugno di ferro che è la sua abilità si regina degli arcieri livello 70 gran salvaguardante livello 50 devastante nuovi livelli delle truppe spaccamurri livello 9 mongolfiere livello 9 drago livello 8 questa è una cosa molto bella perchè io avendo i drag livello 7 adesso donandole sul mio clan arrivano a livello 8 quindi è un vantaggio assurdo per il clan minatore livello 7 drago elettrico livello 4 domatore cinghiale livello 10 bocciatore 5 guaritore 6 e non lo vedo in cattesimi guarigione salto e scheletri quindi si la guarigione è livello 8 io posso farla vediamo un po' no cazzo peccato devo avere forza il laboratorio dei municipi al 13 vabbè finiamo di leggere qui non dovrebbe mancare molto edifici truppe altre modifiche abilità degli eroi eroi proveranno automaticamente a salvarsi usando la propria abilità uh attenzione bellissimo quindi gli eroi quando stanno per morire e tu non risolverai l'abilità perché non hai tanti di mente che se è venuto a fare altro l'attivano da sola bellissimo puoi esibitare questa nuova funzionalità dalla voce altre impostazioni nelle impostazioni del gioco quindi si può disattivare andiamo a vedere un po' altre impostazioni quindi qui eeeh altre impostazioni cambia nome filtri c'è del clano farete posizionizzate neve mostra nuvele scure durante il matchmaking nuvele scure quindi ora le nuvele sono scure cioè non sono più bianche perché effettivamente bianche facevano male gli occhi ora proviamo a vedere estendi la barra dello schieramento che è già estesa usa l'automatico l'abilità di un eroe in difficoltà questa eh attiva l'opzione per permettere agli eroi di usare la loro abilità in modo automatico se si attiva prima che vada una KO perfetto ottimo aggiornamento complimenti davvero davvero bello capita delle volte che sei impegnato magari il gioco scatta non lo so qualsiasi problema che non ti fa non ti permette di usare l'abilità in questo modo viene usata anche ad esempio se perdi la connessione è una cosa molto utile perché perdi la connessione ecco base che fai meno percentuale addirittura perdi una stella perché non puoi attivare l'abilità non ci sei non puoi attivarla invece in questo caso anche se non ci sei si attiverà automaticamente bello ci sono un sacco di altri miglioramenti bilanciamento aspetta vantaggi minchia quanta roba l'abilità dei eroi villaggio base diamo ridimensionati accampamenti l'officina il laboratorio ah erano 4x4 adesso sono 3x3 per liberare un po' di spazio nel villaggio ma non lo sapevo interfaccia generale era possibile vedere l'anteprima del villaggio nel profilo ora è nuovamente possibile infatti mi ricordo che c'era questa possibilità si può vedere premendo nel profilo senza entrarci puoi vedere come è il villaggio come è strutturato quindi molto bello quando si scelgono i membri che parteciperanno alla guerra tra clan o alla lega della guerra è possibile vedere i livelli del municipio questo l'abbiamo già visto cioè lo so già io però non so se l'avete visto voi è un problema perché non lo gestirà tanto si vede il livello del municipio di fianco al nome quando scegli che persone mettere in guerra molto bello quanto scrive la lega della guerra se chiudi riapri lo schermo della selezionamento e verrà mantenuto in memoria la dimensione della guerra precedentemente selezionata ah perfetto diverse mura possono essere migliorate se il prezzo totale non supera al massimo la tua disposizione ovvero le tue risorse attuali al limite di risorse cosa vuol dire questo boh questo non l'ho capito cioè ora se prendi le mura in linea ora lo puoi ce la potrei già fare poi l'immigrazione può essere se posizionata ai confini esterni della mappa bello non è più necessario posizionare la decorazione in ogni disposizione bello questo è molto bello per esempio è possibile avere una decorazione solo nella disposizione del viaggio base ma non in quella della guerra molto bello quindi ora si possono mettere in deposito l'effetto del colpo del gran sovviante comincia più vicino al bastone che allo stomaco ah perché era buggato ho capito bello vantaggi del clan aggiungimento del velo clan ottimo e del clan possono donare due incantesimi al posto di uno bello tutti i limiti i sensi della donazione delle truppe sono aumentate di uno quindi da esempio serano 6 alle insomma sono 7 complimenti bilanciamento il pc trappolo è aumentato di 500.000 la capienza dei depositi d'oro e dei depositi di risidio di livello 13 questi sono al 12 quindi questi di livello 13 aumentano di 500.000 quindi adesso io potenziando questo e questo arriverò a 13 milioni perfetto ovviamente ho perso tutto quindi la prima era 12 milioni adesso si passa a 13 milioni eh forse 14 milioni mi sa eh si 14 milioni minchia è un miglioramento assurdo qui abbiamo aumentato 10% non generale del multimortaio nel viaggio base che non ho multimortaio abbiamo ridotto la capacità della trappola a scatto livello 1 ridotto da 10 e l'hanno dipondentato un sacco boh non so se questo bilanciamento fosse necessario abbiamo aumentato i punti feriti del gigante a 1500 20 punti a 1000 qui è un botto per il livello 9 abbiamo aumentato i punti feriti del minatore abbiamo aumentato i punti feriti del minatore del 6 a 960 forse questo potenzialmente non era necessario visto che i minatori sono abbastanza abusati ancora ragione di posizione del mostino lapico diminuito dirigibile ora causa danni di istruzione che ammonta a 1000 punti feriti madonna complimenti valchiri a livello 7 danni aumentati gran sorvegliante eseguirà meno spesso i massimi lavici interessante la colore di truppo del guaritore è stato miso a 62 punti da 80 livello 5 è stato aumentato da 48 da 44 bottino la quantità massima del esiro oro che può essere rubata dai depositi del giocatore dei municipi di livello 12 è stato aumentato di 50.000 unità pochissimo la quantità massima del esiro nero che può essere rubata dai depositi del giocatore del municipio di velodoro è stato aumentato alle 500 unità beh è giusto che li mettono perchè sono bilanciamenti però non è nulla di che allora cambiata la frequenza di girazione delle schede va bene non ci interessa è andato al costo di incantesimo di meridità di 100 unità di elisir nero hanno aumentato la 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 cercano al budget cercano reclute abbiamo giunto il puntato visualizza clan e inviti del clan ricevuti da clan i giocatori riceveranno un messaggio stiamo continuando a migliorare le opzioni di suggerimento è bello è molto bello che questo gioco sia ancora così tanto aggiornato complimenti problemi risorti risolto l'errore l'arresto risolto l'errore per cui il muro veniva distrutto in età che stavano attaccando il muro cambiamo in mente l'obiettivo il gran soviante non attaccherà più oh guarda finalmente ragazzi il gran soviante non attaccherà più il muro se il suo gruppo delle atti è stato battuto ma andrà a cercare un nuovo gruppo complimenti ragazzi questo è il ragionamento che serviva a cazzo quante volte ho perso un sacco di tempo perché il gran soviante stava lì a picchiare un muro di merda quando poteva farmi il 50% quando io ero al 49 invece non l'ho mai fatto ragazzi complimenti ottimo ragionamento e basta ragazzi quindi questo è tutto ciò che abbiamo visto nel prossimo episodio sono contento di essere tornato su clash of clans e come vi ho detto nel prossimo episodio Musica